Saluto dal VistaVision Stadium di Ipero dove tra poco il vichignolo affronterà il vittuole nella gara della sesta giornata del campionato promozione girone F proprio Iroldi ora porta avanti il pallone Mancino nel lancio con i giri giusti pallone buono attenzione la chance si può andare alla conclusione la parata il portiere che poi rischia ma c'è il salvataggio al secondo palo colpo di testa tentato da Turcoli poi il pallone in rete il gol del Vighi che la sblocca al terzo minuto Bascapè appoggiato al numero 8 la rasogliata di Morello che si chiara il palo Zarone si gira bene su se stesso poi col Mancino innesca Lalli che caccia la risposta di De Pace Bottara pallone dentro la spoda poi il tiro palo Spirisquale al completo Zarone prova il tiro col sinistro venenoso costringe De Pace ad allungarsi sentiamo Martino qui sotto di noi che chiede a Turcoli di raccocciare Venti e Vighi prova l'iniziativa con la conclusione posizione a Zarone troppo centrale la posizione sulla barriera ancora il gran tiro c'è la paratona di agosto il cross pericolo colpo di testa la parata di agosto Zarone il cross per farlo di mano il calcio di rigore rigore per il Vighi pronto Lolli rischetto il gol il 2 a 0 Vighi Pialettino se ne va i dribbling mette il pallone in mezzo Rosaterra il piattone il gol e 0 Vighi arriva il Tris finisce anche il match gioco partita incontro dunque il Vighi di Olo si aggiunga i primi tre punti del campionato grazie a tutti grazie a tutti